A dire la verità, il basilico deve essere molto curato perché se no patisce l'umidità. È stata una stagione bell'orada proprio. Troveremo, si troverà sempre un rimedio a tutto, senz'altro, ma... è stato studiare ci tante tante cose sopra, se no... I have spent all my life exploring underwater, discovering its potential. Questo posto, questa comunità, è in mio sangue. È un'unica a cui mi preoccupo molto. È un'unica a cui mi ricordo che se guarda troppo profondamente, c'è sempre una soluzione. C'è un'unica a cui mi ricordo che la temperatura dell'oceano era abbastanza stabile. C'è un'unica a cui mi ricordo, potremmo creare vegetali underwater? Immagino una casa verde a la bottoma del mare. Difficulti, magari, per esempio, in parole a tutti gli altri. Ho sento mio padre direi, che sai cosa dovremmo fare? Nei che creare le planti underwater. Perché? Perché dovremmo fare questo? Luca' reazione è molto respettante. Absurdo, psicotico, che era ridicoloso. E' vero che non aveva sensato. Inoltre. Mi ricordo i primi esperimenti e questo ridicoloso pallone. Quando si ha un'idea, per qualche motivo si tratta di formare. Si tratta di vita. Si tratta di pensare, che questo può veramente aiutare qualcuno. E poi, la storia è arrivata. Inoltre. Ho Shakespeare. O che è stato fatto il nostro corpo? Che giudì? Per perdere tutto. A la sera, è stata difficile. Sì, sì, sì. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lucca's passion made me believe again. That was an act of love. An act of friendship. Dovrebbero tenere l'acqua a livello piuttosto basso, sufficiente perché le radici tramite il conetto... Le risorse che abbiamo usato sulla terra non saranno qui nel futuro. Sono scarici e saranno fuori. Questa idea che mio padre sognava e che abbiamo creato insieme, questo potrebbe essere qualcosa per il futuro, qualcosa che potrebbe cambiare il futuro che viviamo. Non siamo 100% sicuri che ci saranno successivi, ma abbiamo dovuto provare. solo per provare. Grazie a tutti.